L'Emporio Solidale è un supermercato particolare nel senso che si presenta come un supermercato quindi con gli scaffali e con i prodotti a disposizione degli utenti però in questo supermercato non circola denaro, i beni che si trovano qui sono stati donati e questo è un aspetto molto importante e anche gli addetti sono tutti volontari. Oltre però al supermercato vero e proprio, quindi alla distribuzione di prodotti per la persona e per quindi le famiglie, ci sono anche delle postazioni, dei box informativi perché l'obiettivo è quello di aiutare le persone che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà ad uscire da questa fase cercando quindi di superare le difficoltà che hanno incontrato in questo momento sia nell'ambito lavorativo o perché sono stato qui.